Patenti agli stranieri in cambio di denaro, il boss della banda era nel Vicentino. Vigili in sciopero precettati dal prefetto per il derby tra Vicenza e Padova. Elezione del nuovo presidente della provincia di Vicenza, la sfida è tra due candidati. Rivoluzione a Campomarzo, investimenti per 3 milioni di euro. Emergenza freddo, 48 senza tetto, ospitati in via Giordano, allestita una tenda. Salvi al via, i vicentini, meno spese a Natale per approfittare proprio dei salvi. Un cordiale buonasera a tutti voi telespettatori, ben ritrovati all'appuntamento con TG Vicenza. Apriamo questa edizione parlando di una banda sgominata, una banda che proponeva patenti false per gli stranieri. Forniva questi documenti contraffatti in cambio di denaro agli stranieri che non parlavano nemmeno italiano. Stroncata la banda delle patenti facili è grazie ad un'indagine congiunta della polizia locale di Verona e il nucleo giudiziario della polizia stradale di Vicenza che è stata smantellata un'organizzazione ramificata sul territorio italiano che proponeva di far ottenere la patente di guida a persone straniere che non capivano e spesso non parlavano la lingua italiana. Un affare che poteva fruttare per ogni candidato presentato dai 2 ai 3 mila euro. La struttura, stando alle ricostruzioni delle autorità, era guidata da un uomo di origine pakistana con casa nella provincia berica che si avvaleva di una folta rete di procacciatori d'affari sparsi nelle regioni del nord Italia, con qualche cellula anche nel Lazio. Ai candidati veniva offerto un pacchetto completo e il giorno della prova d'esame gli veniva fornita una felpa contenente una microcamera. Unico compito del candidato era di sedersi alla postazione, posizionare il monitor con le domande a favore della microcamera e attendere le risposte. L'indagine è scattata nel maggio 2022 e ha visto coinvolti i territori di diverse province italiane, Vicenza, Brescia, Bergamo, Cremona, Sondrio, Udine e Roma, portando al deferimento in varie procure del territorio nazionale di 8 persone. Sono attualmente al vaglio le posizioni di circa 40 soggetti. Per alcune decine di candidati verrà proposto alle motorizzazioni civili di competenza l'annullamento della patente di guida ottenuta indebitamente con la revisione per la verifica dell'idoneità tecnica alla guida. Domenica il tanto atteso derby tra Vicenza e Padova fa scattare l'allarme sicurezza. Vigili precettati è un ordine del prefetto. L'8 gennaio per il derby Veneto tra LR Vicenza e Padova, il rappresentante del governo ha disposto che 29 agenti di polizia locale dovranno assicurare l'ordine e la sicurezza. Proprio nel giorno in cui si giocherà una partita che rischia di essere velenosa per la rivalità che separa le due tifoserie, i sindacati avevano dichiarato lo sciopero della polizia locale per protestare contro il turno prolungato voluto dall'amministrazione che ha chiamato i vigili a pattugliare i parchi, i quartieri e le strade ogni venerdì e sabato fino alle 3 di notte. Ogni volta che abbiamo tentato di fare uno sciopero siamo stati introdotti nel dispositivo di ordine pubblico e quindi c'è stato interdetto lo sciopero in quegli orari. L'avvertenza che stiamo portando avanti in questo momento è legata all'aumento dell'orario che tanti hanno detto che è solo una questione di prolungamento di orario venerdì e sabato, è possibile farlo. Ci sono stati chiesti degli sforzi ulteriori nonostante il numero ridotto di personale e sempre più esigenze da parte della cittadinanza, da parte soprattutto dell'amministrazione pubblica. Per domenica molti tifosi arriveranno con la propria auto dalla vicina Padova e quindi la gestione del traffico e il ruolo degli agenti di polizia locale nella garanzia dell'ordine pubblico diventa fondamentale. Piuttosto c'è da chiedersi se la realizzazione di largo Paolo Rossi sia stata indovinata perché le nuove uole di fatto hanno sottratto spazio al piazzale a ridosso della curva nord chiamato in gergo la gabbia perché recintato con una struttura in metallo a servizio del settore dei tifosi ospiti. Una scelta discutibile perché oggi la capienza della cosiddetta gabbia utile per evitare che le tifoserie avversarie entrino in collisione è stata dimezzata portata da 1200 persone a 600 e in partite come il derby col Padova dell'8 gennaio è assolutamente insufficiente. Per questo il prossimo match bisognerà allargare la gabbia con pareti mobili noleggiate dall'Anerossi Vicenza. Insomma bisogna trovare soluzioni provvisorie e allora c'è da chiedersi se sacrificare 600 posti di scarico dei tifosi per far spazio a due aiuole a forma di scarpa da calcio sia stata la scelta giusta. Per l'elezione del nuovo presidente della provincia di Vicenza è sfida a due. Il guanto di sfida è lanciato e testa a testa tra il sindaco di Caldogno e il primo cittadino di Montegalda. Uno dei due sarà il prossimo presidente della provincia di Vicenza. Le regole sono chiare. Possono candidarsi solo sindaci che hanno ancora 18 mesi di mandato nel loro comune escludendo di fatto il presidente uscente Francesco Lucco che era avanti sei mesi da sindaco di Vicenza. Fuori lui che aggregava trasversalmente tutte le forze politiche il fronte si è spaccato. Solo 28 i sindaci candidabili ma due i veri candidati. Nicola Ferronato ha raccolto sorprendentemente non solo una parte dell'area civica ma anche l'appoggio del centro con azione e Italia Viva che si sono schierati con il candidato di centrodestra. Ho accettato di buon grado perché credo che la funzione diciamo della provincia sia una funzione importante nel bene e nell'interesse della cittadinanza e quindi un buon sindaco che ha a cuore il benessere dei propri cittadini deve portare anche a livello provinciale questo obiettivo. L'altro candidato sarà Andrea Nardin che raccoglie la restante parte dei civici il centro-sinistra e altri amministratori. Sono uno dei tanti sindaci dei tanti consiglieri che ogni giorno è vicino ai propri cittadini al proprio territorio. Nei prossimi giorni cercherò di visitare comune per comune di ascoltare, di capire per costruire un progetto per una nuova provincia di Vicenza. Il presidente della provincia verrà votato il 29 gennaio gli elettori saranno i sindaci e i consiglieri comunali di tutto il Vicentino se poi andrà in porto la riforma delle province voluta dal nuovo governo e annunciata dal ministro Calderoli quello che verrà eletto sarà un presidente di transizione che porterà avanti il suo mandato presumibilmente fino alla primavera del 2024 quando in Italia tutto verrà azzerato e si andrà alle urne con i cittadini che torneranno a votare direttamente i presidenti di provincia. Ma questo è già il futuro il presente è nel testa a testa tra Nardin e Ferronato prova di corsa, di fiato, di alleanze, di strategie in vista delle amministrative che nel giugno del 2023 porteranno all'elezione del sindaco di Vicenza. Parliamo adesso di Campo Marzio e di una riqualificazione da più di 3 milioni di euro. Campo Marzio, destinazione futuro. Il più grande parco di Vicenza verrà totalmente rivoluzionato rivoluzionato con un progetto da 3 milioni e 100 mila euro 1 milione e 4 per la parte ovest 1 milione e 7 per la zona est a dare benzina alle casse pubbliche i fondi del PNRR che verranno investiti con l'obiettivo di ridurre a Campo Marzo gli angoli di degrado e aumentare invece la presenza dei cittadini grazie a nuove funzioni, nuovi vialetti, nuovi arredi urbani. Le caratteristiche principali sono quelle di rifare completamente i vialetti che adesso sono instabilizzato morbido con tappeti drenanti stabili. Nuovo arredo urbano, quindi spareranno le panchine grandi ma verranno sostituite con panchine più piccole con braccioli e sedute singole quindi antibivacco. Le aree che sul prato spesso e volentieri vengono utilizzate per bivacare verranno sostituite con prati fioriti quindi impedendone l'utilizzo scorretto. Un grosso intervento verrà fatto sulla seriola una resezione completa e un nuovo intervento bivaistico quindi con piante acquatiche che ridaranno vita a quel bellissimo angolo, a quel camminamento. Non solo, nuova illuminazione e più telecamere di videosorveglianza e poi rispondendo a una richiesta dei cittadini e dei commercianti portata avanti da Rete Veneta la realizzazione dell'aiuola con il logo fiorito di Vicenza. Su una richiesta pressante di Rete Veneta andremo a ripristinare quello che è il logo della città all'ingresso di Valle Roma di fronte alla stazione quindi con i fiori ripristineremo il vecchio simbolo della città sul prato. Benissimo e noi di Rete Veneta aspettiamo di vedere con le nostre telecamere questa rivoluzione. Nel frattempo la questione non finisce qui ma continua. Bratella dell'Albera e tempo di bilanci anche per il Comitato dei residenti. Siamo ai due terzi dell'opera realizzata cioè il 67% ma purtroppo il fatto che lo stato avanzamento lavori procede troppo lentamente 1% al mese significa che per fare il restante 33% dell'opera vuol dire due anni e mezzo inaccettabile. Per noi l'anno decisivo è questo e questo quindi ANAS ha ribadito che il 29 di giugno l'opera sarà ultimata e noi vogliamo crederci siamo ottimisti naturalmente esercitiamo tutta un'opera di pressing nei confronti di tutte le istituzioni. Fotografia dello stato di avanzamento lavori tra Viale del Sole e Maddalene che di tanto in tanto i residenti del Comitato Albera forniscono per ribadire l'azione di pressing sulle istituzioni è in vista un incontro con l'assessore regionale all'infrastruttura Elisa De Berti e intanto continuano la raccolta firme attraverso i banchetti itineranti nei mercati cittadini. Quartiere che attende da anni la realizzazione della cosiddetta bretella dell'albera infrastruttura funzionale a decongestionare il traffico. L'avanzamento di lavori è molto lento logicamente le aziende e chi è responsabile deve farsi carico di questi tempi con un traffico di 33.000 autoveicoli di cui 2.500 tir uno non sa neanche come fare a attraversare la strada. Emergenza freddo in Via Giordano sono ospitate 48 persone senza tetto per la notte allestita anche una tenda per chi non vuole dormire al chiuso. Sono quasi 130 le persone senza una casa che ogni sera trovano accoglienza tra la struttura comunale di Via Giordano riservata al progetto Emergenza freddo e all'albergo cittadino trasferito da qualche anno in contrasto a San Marco. Si tratta di 48 uomini accreditati in Via Giordano dove nelle scorse settimane sono arrivati ad essere in 51 e di 62 uomini 8 donne 9 bambini ospiti nelle diverse stanze dell'ex studentato di Contra San Marco il cui diritto di superficie è stato ceduto gratuitamente dalla Curia al Comune di Vicenza per 20 anni con l'obiettivo di strutturare in modo organico l'accoglienza dei senza fissa dimora. Sono persone che quindi vengono anche poi mappate sul territorio quindi queste persone non sono solo dati identificativi che conosciamo ma ci permette di conoscere anche i dati sanitari e in molte situazioni riusciamo anche ad aiutarli. Nello spazio verde di Via Giordano è stata anche allestita una tenda per accogliere chi non vuole dormire in una struttura chiusa utilizzata anche per ricoverare chi si presenta particolarmente alterato ma non aggressivo possibilità in più per recuperare chi vive in strada fenomeno che in città conta ancora poche unità. Siamo passati da circa 30 persone in strada a ormai ne contiamo tra le 8 e le 10 diversi sono state le persone che sono state accolte nelle strutture di accoglienza e si cerca di fare un lavoro importante sia in strada sia all'interno delle strutture per insaurare un rapporto di fiducia e una relazione con le persone. Sono iniziati i saldi allora vediamo come è andata in città. E' pesato in quest'anno il caro bolletto e il caro energia? Direi molto direi Quindi avete rimandato gli acquisti? Esattamente li abbiamo rimandati per i saldi Non ho fatto tanti regalini in dicembre allora approfitto questi saldi per l'opportunità di espermiare un po' di soldi allora adesso che faccio i regalini? Abbiamo magari evitato di acquistare nello specifico l'abbigliamento per poi aspettare questi giorni? questo è quanto Quindi meno regali a Natale e adesso ci si toglie qualche soddisfazione in più? Sicuramente sì È un momento in cui si può acquistare a un prezzo migliore però non per il momento ci stiamo pensando stiamo facendo una passaggiata proprio per osservare le vetrine La cinghia stringerla sempre perché insomma in teoria c'è sempre da stringerla perché ma per una cosa ma per le bollette ma per altre cose insomma non solo per le cose di abbigliamento un po' per tutto insomma in generale sono tempi da stringere rispettiamo il 50 però qualcosina abbiamo iniziato a prendere Potete mandarci ancora per qualche giorno i video le foto dei vostri presepi questi sono i nostri recapiti la raccomandazione è di inviare sempre video o foto con lo smartphone in orizzontale noi saremo ben lieti insomma di mandarli in onda nel nostro Tg Vicenza e come sempre a proposito di presepi ecco i vostri presepi di questa sera A presto Grazie a tutti. E' davvero tutto, io vi ringrazio per aver scelto l'informazione di TG Vicenza.